La giornata interessante è il fascicolo del fabbricato, in realtà il mio compito è quello di illustrare il parallelismo che c'è tra quello che avviene in Italia e quello che avviene in Europa. Anacida, ormai quasi un trentennio, partecipa a quelle che sono le politiche europee e sicuramente il tema del fascicolo del fabbricato non poteva lasciarci indifferenti. Quindi quello che cercherò di tracciare oggi è appunto il parallelismo che c'è tra quello che avviene in Italia e quello che avviene in Europa con riferimento sia al fascicolo del fabbricato ma in realtà in particolar modo a quelle che sono le responsabilità dell'amministratore, le competenze che lo stesso deve avere, la professionalità e quant'altro necessario, gli strumenti operativi e tutto quello che è necessario per poter operare nell'interesse del consumatore. Si parla tanto di Europa ed in Europa quello che conta oggettivamente è appunto la tutela e la difesa dell'anello debole della catena che è proprio il consumatore. Di questo e di altro affronteremo poi durante il convegno e sentirò anche gli interventi dei colleghi.